Benvenuti a Procida, il nostro oro è il limone procidano, guardate che colore che ha, un giallo calico e in questo periodo dell'anno abbiamo la fortuna di avere il limone marzaiuolo, è il limone che ha una maturazione anticipata pertanto, è più grande e ha delle caratteristiche organolettiche particolari che adesso vi racconteremo man mano che prepareremo la nostra ricetta. L'insalata di limone è un piatto povero e appartiene a quella che è la tradizione procidana, più esattamente alla tradizione del contadino. Allora gli ingredienti, aglio fresco, menta, peperoncino, sale e olio extravergine, aglio fresco, mentuccia, quindi abbiamo detto aglio fresco, menta, peperoncino, sale e un po' d'olio extravergine, poi ne aggiungeremo dell'acqua dopo, questo al momento è solo per preparare il nostro battuto. Qui ci vuole adesso un po' di pazienza perché dobbiamo raggiungere la consistenza giusta. Quindi ogni tanto aggiungeremo un po' d'olio ai nostri ingredienti. L'ingrediente fondamentale è l'amore, la passione per preparare il nostro piatto tipico. Ci siamo quasi eh! Serve preparare l'emulsione abbia la consistenza giusta perché tutti gli aromi sprigionati poi devono praticamente essere assorbiti dall'albedo. Ecco. Deve essere liquida no? Sì sì sì. Adesso prendiamo il nostro limone marzaiolo. Con il limone non c'erano nulla, fanno attenzione perché ho aperto il limone per farvi vedere anche l'albedo che rispetto al limone classico, cioè la parte bianca, è molto più spessa. E dopo vi diciamo perché è importante. Essendo la parte più spugnosa ci dà. C'è un'attenzione, dobbiamo la brucia. Questa è un'attenzione. Vediamo il bostolano avanti. Vediamo il bostolano. Ancora un'aggiunta di olio perché l'albedo assorbe tantissimo, quindi per permettere agli aromi di essere, diciamo, catturati abbiamo bisogno di un po' di olio. Chi lo fa l'assaggio? Filo, lo fai tu l'assaggio? Va bene. Va bene? Grazie. 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 Mi piace mettere un po' di peperoncino per dare un tocco di russo. Mi aspettavano. Lucidiamo il tutto. E penso che possiamo dire anche buon appetito. E benvenuti alla cultura non isola. Grazie. 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 Grazie.